Buongiorno ragazzi, oggi volevo parlare un po' con voi di una nuova marca che mi ha contattato per iniziare una nuova collaborazione. La marca si chiama Top Test, come potete leggere anche qui sulla scatola di questo prodotto. Nuova collaborazione, marca già conosciuta a livello europeo, già conosciuta anche negli Stati Uniti e vuole entrare nel mercato italiano e quindi ha una gamma di prodotti che vuole presentare. Mi ha dato il suo catalogo, ho scelto fra diversi prodotti, un paio che potrebbero interessare, sono veramente carini ragazzi, ascoltate questo video perché ne farò due. Uno con questo prodotto che vedete qui che è un gas detector combustibile e gas detector, ovvero se ci sono perdite da qualche parte, perdite di gas, oppure se ci sono delle esalazioni di combustibile o altri tipi di comburente, lui le va a rilevare, è tipo come se fosse il naso di un segugio, il naso come potete sapere il naso umano non è molto sopraffino, non riesce, a volte alcuni tipi di gas non li sente neanche, mentre questo prodotto che ho avuto anche modo di provare, di testare, veramente ragazzi è come se fosse il naso di un segugio, anche di più è un naso elettronico, chiamiamolo così, ed è in grado veramente di andare a rilevare tutte quelle perdite che possiamo trovare in casa nostra o anche stavo pensando chi ha un camper, ha delle bombole su un camper, il vebasto, il cinebasto per riscaldare con del combustibile all'interno, questo secondo me ragazzi stiamo parlando di un prodotto che dovremmo avere tutti noi a casa per la nostra sicurezza, tra l'altro non ha nemmeno un costo esagerato perché sono andato a vedere, sul catalogo più o meno oscillano questi tipi di prodotti dai 10, 20, 30, 40 fino a 50 euro al massimo per il modello di punta, questo è diciamo una via di mezzo che costa intorno ai 30-40 euro, cambia di prezzo a secondo come potete vedere è munito di una sonda flessibile di ferro che voi potete piegare a piacimento e ovviamente più è lunga la sonda e più andrà a costare questo tipo di attrezzo, ho visto che quello con una sonda lunghissima costa 50 euro ed è quello proprio il top di gamma, questo che è identico come corpo macchina ma la sonda leggermente più corta costa intorno ai 30-40 euro, come vedete non è un prezzo esagerato per un prodotto veramente che ora non vorrei dire salva vita ma quasi perché vi permette di rilevare ogni tipo di fuga di gas e anche ogni tipo di esalazione e adesso nello specifico vi andrò anche a parlare che tipo di esalazioni va a rilevare. Il prezzo varia anche in base al tipo di modello ovvero ci sono modelli anche uguali a questi come forma e tutto ma che hanno magari le batterie quelle a mini stilo questo invece questo che mi hanno mandato ha praticamente le batterie a litio integrate, difatti come potete vedere qua a lato c'è l'entrata usb per poterle ricaricare quindi diciamo che oltre ad avere un'autonomia veramente elevata non ha bisogno di portarsi dietro batterie o nel momento che magari ci può tornare utili ci ritroviamo con le batterie scariche, le batterie da cambiare e dobbiamo poi andarli a comprare. Questo basta inserire una presa usb che viene data in dotazione il cavetto usb lo si attacca al caricatore del telefono come vedete in dotazione vi danno anche un comodo veramente astuccio rigido per poterlo riporre quando non viene utilizzato e quindi poi è sempre pronto all'uso tenetelo in carica e potete utilizzarlo. torniamo un attimo a noi allora vi volevo giusto spiegare che tipo di sostanze lui riesce a rilevare ragazzi veramente è una cosa interessante dopo poi vi farò vedere delle prove che ho fatto sul campo ho fatto delle prove che sono incredibili ma giusto per la cronaca vi voglio vi voglio dire che lui riesce a rilevare l'acetone l'acetilene l'alcol l'ammoniaco il benzene il butano l'etanolo l'ossido di etilene la benzina l'esano l'idrogeno il metano la nafta gas naturale diluente vernici propano solventi organici refrigeranti e ogni tipo di gas o comburente che noi possiamo andare a vedere come vedete la lista è lunghissima e io guardate giusto perché ne ho qua di fianco ne ho presi due a caso vi farò vedere subito una prova prima di poi rimandarvi alle prove vere e concrete che ho fatto qua abbiamo una una latta di nitro questa è il nitro antinebbia che viene utilizzata per lavori di carrozzeria di pulizia dei pezzi vengono sgrassati mentre qui abbiamo un misto di gas e gasolio cioè benzina e gasolio mi è capitato un cliente che ha messo il gasolio nella moto al posto della benzina quindi ho dovuto svuotare il serbatoio la rimanenza l'ho messa in questa in questa tanica la utilizzo per pulire gli attrezzi a volte con la benzina o per pulire e sgrassare le cose ma adesso andiamo a vedere un attimo il nostro piccolo attrezzo incominciamo ad accenderlo come vedete basta premere il tasto centrale lui appena acceso andrà a fare una specie di check bisognerà aspettare qualche minuto perché si andrà a tarare in automatico qua come potete vedere c'è la sonda con i buchi dove diciamo va a respirare va a va a far a rileva a prendere le rilevazioni attraverso questi vedete qua c'è una retina un piccolo filtro e attraverso questa sonda lui andrà a rilevare se ci sono delle perdite se ci sono delle esalazioni come vedete ci mette un po a tararsi perché ogni volta che viene acceso fa l'auto taratura ha tre tipi di rilevazione love media e alta ovvero se deve essere più sensibile o meno sensibile vedete adesso lui è pronto per essere per entrare in funzione io l'ho selezionato su height vedete che è qui la parte rossa è molto sensibile quello che vedete in alto questo simbolo il primo su in alto a sinistra è l'auto spegnimento ovvero se ve lo dimenticate acceso lui si va a spegnere in automatico potete disattivarlo tramite questo tasto apo e poi il tasto che vedete di fianco è il cicalino potete toglierlo metterlo potete sia tenere il cicalino che la barra luminosa qui davanti ottenere solo la barra luminosa e togliere il cicalino io ovviamente li ho lasciati tutti e due per comodità bene ragazzi allora proviamo subito prendiamo il nostro rilevatore e proviamo ad avvicinare la sonda vicino la latta della nitro proviamo a come potete sentire guardate è già andato a fondo scala perché ha rilevato la nitro all'interno del nostro barattolo vedete poi piano piano è la nitro antinebbia quella che si utilizza tipo l'acquaraggia la trielina fa sempre parte di quei composti lì vedete ora ad esempio oppure troviamo qui come vi dicevo prima la tanica quella della benzina dove all'interno c'è gasolio e benzina anche qui noi possiamo prendere con la nostra sonda e andare a vedere se per caso guardate subito non ho fatto a tempo avvicinarla che il rilevatore di di carburanti e lui l'ha subito rilevato poi basta allontanarsi un po e lui piano piano torna di nuovo in modalità di rilevazione bene ragazzi adesso seguitemi che vi voglio far vedere tutti i test che ho fatto che sono veramente incredibili venite con me ok ragazzi adesso proviamo un attimo a controllare questo è il bombolone del gpl che ho interrato di mille litri ed è collegato a casa mia mi permette di avere acqua calda di avere il riscaldamento adesso proviamo ad aprirlo e verifichiamo col nostro detector se ci sono delle fughe di gas o c'è un minimo o qualche perdita qualcosa in modo che possa anche farla controllare ai vari ai organi competenti allora apriamolo tiriamo su ecco vedete allora io l'ho già acceso vediamo un attimo come si comporta incominciamo a inserire giù la sonda e inserendo la sonda vediamo un attimo no prima ho visto che mi faceva un minimo di di mi suonava adesso invece no meno male dai non ci sono perdite di gas ok perfetto perfetto no perché se l'avevo provato ieri e mi dava un paio di cicalini me li dava forse era sì perché è stato chiuso per tanto tempo e alla prima apertura ha fatto quella cosa lì però no dai meno male meno male è a posto quindi prova qui del bombolone gpl è passato però mi ha dato nessun tipo di 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 perdita e nulla meno male meno male e così vedete siamo tranquilli anche per fare questo genere di prove così se sappiamo che c'è una perdita o qualcosa possiamo avvertire subito la società che se ne occupa per fare il intervenire cambiare o sostituire la valvola allora ragazzi giusto per fare un'altra prova questo strumento viene comunque garantito per l'interno ovvero per fare le prove all'interno vi voglio far vedere che anche all'esterno lui è in grado di riconoscere una fuga di gas adesso ad esempio prendiamo il gas quello dell'accendino della cucina ok vedete è acceso io vado a metterlo un pochino qui sulla punta faccio uscire ecco avete sentito subito è andato a rilevare vedete perché io ho spruzzato leggermente un po' di gas guardate lo riproviamo lo metto qui sulla punta e andando a cliccare vedete lui subito impazzisce nonostante siamo in esterno quindi è un prodotto veramente ragazzi veramente per quello che costa dovremmo averlo tutti in casa un attrezzo del genere ok ragazzi adesso proviamo un attimo col diesel vedete del furgone ma giusto per vedere se rileva anche il diesel non è che noi ci dobbiamo mettere lì a fare le prove a vedere o a andare a cercare le perdite di diesel o altro ecco vedete lui ha rilevato anche in questo caso con la sonda nel serbatoio è andato a trovare riesce quindi qualsiasi tipo di gas o esalazione di qualche comburente lui la rileva senza senza problemi e in questo caso abbiamo provato con il diesel vedete bene ragazzi altra prova o test che si può fare sono le classiche stufette a gas che abbiamo molti di noi abbiamo in casa io questa ce l'ho giù in taverna a volte per non stare a accendere il camino e non consumare tanta legna utilizzo questa o me la porto anche in box la utilizzo in box per quando devo fare qualche lavoretto alla macchina proviamo anche qui col nostro rilevatore di gas proviamo ad aprire ad accenderla dietro e vediamo un attimo se ad accenderla vediamo se c'è qualche perdita allora giriamola adesso perfetto vedete qua dietro c'è la bombola ok perfetto vai ad aprire il coso del gas e noi inseriamo intanto qua il nostro il nostro misuratore aperto ok vediamo stiamo la la sonda è vicino alla valvola aperta ovviamente la 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 bombola è stata installata con la guarnizione tutto come vedete non ci sono perdite e possiamo stare quindi tranquilli possiamo accenderla e poi dopo utilizzarla senza aver paura che possa succedere qualcosa e questo vediamo e questo questo strumento ci può tornare utile vedete vedete non rileva nessuna fuga di gas ed è sensibilissimo adesso in questo momento l'ho messo con sensibilità alta come potete ben vedere vedete il tipo di sensibilità l'ho messa in modo a aiuta poi c'è la sensibilità media se voi andate a cambiarlo sensibilità low bassa io l'ho messa proprio alta che se proprio rileva appena appena un una fuga di gas di qualsiasi tipo di gas di qualsiasi tipo di esalazione lui se ne accorge al volo vedete quindi anche questo test l'ha passato la bombola non può non ci può portare nessun pericolo ok ragazzi questa è la cucina che noi teniamo giù in garage e la utilizziamo per cucinare tutti quei cibi che fanno un po' troppo odore che poi vanno a infestare la casa penso il pesce la peperonata piuttosto che la carne che poi per giorni e giorni ci ritroviamo il l'odore tatuato sui muri di casa bene vi voglio far vedere e questo può essere un esempio può essere anche oggi giorno vanno di moda quei barbecue a gas oppure i forni della pizza a gas quelli che hanno tutti al proprio interno come in questo caso la bombola vedete anche qui c'è una bombola come quella che vi ho fatto vedere prima del della stufetta gas e questa invece c'è la bombola che viene utilizzata per questa cucina che noi usiamo d'emergenza quando vogliamo cucinare tutti quei cibi che ovviamente in casa danno un po fastidio come odore io il rilevatore l'ho già acceso anche in questo caso andiamo a controllare se ma io lo so perché la bombola l'ho messa io se c'è qualche perdita vicino vedete dove c'è proprio l'attacco con la guarnizione o dove c'è il tubo come potete vedere non sta rilevando assolutamente nulla anche qui vicino al tubo dove di solito magari io poi di solito faccio anche con il salmeno prima utilizzavo il sapone e se faceva le bolle voleva dire che c'era una perdita in questo momento la bombola è giallo già aperta quindi come potete vedere non non rileva nulla però se noi ad esempio andiamo ad appoggiare qua il nostro nasone io lo chiamo nasone perché col mio naso io non riesco a sentire l'odore del gas quindi vi ho detto vediamo se lui invece riesce a rilevarlo quindi abbiamo detto la bombola è aperta è collegata bene ai fornelli quindi vuol dire che gas da lì non ne perde proviamo ad accendere il il pomello del gas lo giriamo e subito lui ha rilevato il gas perché io ad esempio non lo sento l'odore del gas non riesco a sentirlo eppure lui avete sentito subito l'ha rilevato appena io ho acceso il come si chiama ho acceso ho ruotato il pomello guardate in automatico lui subito sente l'odore del gas quindi se avete un barbecue a gas una cucina a gas o comunque volete fare questo tipo di prove che in casa magari ripeto io qui con la bombola se provo avvicinarla in questi punti l'ho l'ho serrata bene la guarnizione ben serrata non ci sono fughe di gas io ovviamente ripeto avevo fatto il test con il sapore ma con questo strumento siamo più tranquilli e siamo più sereni in casa nostra visto che il nostro naso non è molto molto preciso non riesce a rilevare i gas con questo abbiamo visto che anche per quanto riguarda cucina gas barbecue a gas o forni delle pizze potete fare questo genere di test e questo genere di prove ok ragazzi tra le altre prove che si può fare con questo rilevatore di gas e comburenti possiamo provare a vedere anche ma così giusto per vedere proprio se funziona questo è l'acetone di mia moglie quello che utilizza per pulire le unghie dallo smalto dovrebbe rilevare anche l'esalazione il gas dell'acetone allora andiamo a togliere il tappo proviamo a mettere come vedete la sonda mettiamola vicino al nostro nasone e come vedete ha rilevato anche il l'acetone vedete quindi anche anche questo genere di prodotto viene rilevato da da questo io lo chiamo un nasone per permettetemi questo questo termine inappropriato ma mi piace che vederlo io lo vedo come se fosse un naso super sviluppato come quello dei cani o un naso elettronico ecco quindi io l'ho soprannominato nel mio nel mio gergo tecnico il nasone anche l'acetone è andato a rilevarlo bene ragazzi adesso col nostro nasone andremo a fare anche l'alcol test ovvero vedremo se per caso rileva anche le tracce di alcol e questa non è una cosa buona perché nel caso vostra moglie potrebbe quando tornate a casa la sera dopo aver fatto baldoria potrebbe inficarvelo in gola vedere un attimo se si illumina o meno ok proviamo a vedere mettiamo la sonda qui davanti proviamo come vedete rileva anche l'alcol quindi state attenti veramente perché se vostra moglie scopre una cosa del genere quando tornate la sera a casa un po brilli e vi fa l'alcol test con uno di questi non la passate di sicuro liscia ma veniamo a noi vediamo se rileva anche la benzina della motocicletta ovvero spesso abbiamo delle perdite odore di benzina non sappiamo bene da quale punto può arrivare se dei carburatori magari c'è qualche tubicino che perde ma vediamo più che altro se rileva proprio la benzina adesso proviamo a inserire la sonda nel serbatoio tiriamo via il tappo tiriamolo su va solo tirato su il tappo e si toglie benissimo proviamo a inserire come potete vedere non appena si avvicina la sonda al serbatoio altro che non la smette più di suonare ora io devo tenerla appena appena sopra vedete mi allontano e man mano va a scemare quindi anche con la benzina lui rileva anche le esalazioni della benzina ma questo è giusto un esempio poi l'ho infilato dentro potevo benissimo tenerlo in superficie l'averebbe captato lo stesso veramente veramente utile questo strumento mi sta sempre di più convincendo dovrebbe stare nelle case di tutti perché veramente può aiutare e può tornare utile sto pensando anche a chi magari ha un camper e sul camper con le bombole del gas o con altri tipi tipo il vebasto il cinebasto per scaldare questo ragazzi veramente è un salvavita ragazzi mi è venuta in mente un'altra cosa questo è il baretto di casa mia che mi sono fatto l'angolo bar come potete vedere e mi è venuto proprio in mente ma proviamo a vedere ho provato l'alcol e l'alcol veramente veniva rilevato proviamo anche col jack daniels vediamo se alziamo un po il gomito col jack daniels se lui va a rilevare anche l'alcol presente nel jack daniels proviamo a vedere togliamo il tappo allora lui è acceso inseriamo la sonda nel jack daniels proviamo a vedere e appunto ha rilevato anche il jack daniels quindi ragazzi rileva veramente veramente incredibile non immaginavo veramente è stupendo questo attrezzino qui allora ragazzi proviamo a vedere adesso se funziona il jack daniels proviamo a berne un goccio e poi con questo vediamo se rileva veramente in bocca il coso vai bevini un sorsetto buona apri la bocca soffia sì cavolo non ci credo ragazzi è incredibile ha rilevato che ha bevuto il jack daniels ottimo ragazzi allora se avete un amico che vi vuole accompagnare a casa e ha alzato un po il gomito fate il test con questo incredibile ragazzi sto facendo la controplava ma funziona sul serio non stavo dicendo stupidaggini ha già bevuto da un po il jack daniels ormai sono un po' ubriaca è un po' ubriaca metti in bocca vai c'è ancora incredibile funziona sul serio ragazzi funziona come alcol test bene ragazzi siamo arrivati oramai alla conclusione di questo video tiriamo un po' le somme abbiamo fatto tutti i tipi di test abbiamo anche scherzato avete visto con l'alcol test abbiamo giocato un attimino ma mi raccomando su queste cose non si scherza non si gioca perché parliamo di gas parliamo di sostanze pericolose e secondo me un aggeggino del genere ormai nel 2023 dovrebbe essere nelle case di ognuno di noi insieme alla cassetta del prodotto sconto soccorso avere un rilevatore di gas e sarebbe una gran buona cosa tra l'altro poi stiamo parlando di poche decine di euro questo con gli sconti e il mio codice sconto che trovate nel link lo andate a pagare sui 40 45 euro quindi non mi sembra una spesa tanto grossa soprattutto poi stiamo parlando di gas che molti di questi gas che vi ho fatto vedere che vi ho elencato non sono nemmeno dal nostro apparato olfattivo non sono nemmeno udibili o riusciamo a sentire né l'odore né nel sapore né nulla ci ritroviamo come spesso accade queste fughe di gas come nei telegiornali che purtroppo le persone poi ci rimangono quindi ora non è il caso in questo caso però almeno avendo una sonda del genere ogni tanto se anche uno in famiglia ragazzi ma sento odori di gas oppure la nonna che non sente di qua e di là potete benissimo farvi un giro su tutti i vari i pomelli del gas se ce n'è qualcuno difettoso qualcuno che non chiude bene e idem per i vari forni barbecue o forni della pizza soprattutto che sento che ultimamente li tengono quelli a gas li usano in casa che andrebbero usati sul balcone e molti magari li tengono in casa con la finestra aperta è veramente una cosa pericolosa poi visto il costo visto anche l'avvicinarsi del natale non sarebbe nemmeno una brutta cosa farlo come regalo di natale regalarlo al nonno allo zio al suocero che magari c'è già una certa età e secondo me vi divertite anche a natale a scartarlo a trovarlo nel nel pacco regalo e vi mettete lì a fare il giochino dell'alcol test vedere chi ha bevuto di più e chi ha bevuto di meno bene ragazzi mi sembra di aver detto tutto il prodotto per me l'ho provato funziona è veramente un ottimo prodotto se avete qualche altra domanda qualcosa da fare me la fate qui sotto nei commenti io per il momento vi mando un grosso abbraccio come mi faccio io di solito e vi saluto caldamente ciao a tutti ragazzi grazie